Benvenuto nel canale Sports Today con le ultime notizie come .c' e anche il Real Madrid su Victor Oseman, i Blancos preparano l'assalto all'attaccante che sta trascinando il Napoli. Non solo il Manchester United, dall'estero attenzione anche a Real Madrid in ottica Oseman. I Blancos vogliono strappare l'attaccante al Napoli.Il Real Madrid ha messo nel mirino l'attaccante del Napoli e potrebbe sfidare il Manchester United nella corsa all'attaccante nigeriano, autore finora di 23 gol e 5 assist in 28 partite giocate con la maglia del Napoli, trascinando gli azzurri nella corsa Scudetto. Non sarà facile, del resto, trattenere a Napoli l'ex Lille per Aurelio De Laurentiis, il quale dovrà fare i conti con le tante offerte provenienti, in particolar modo da club europei, anche perché difficilmente il Napoli andrà a rinforzare dirette concorrenti in Italia. Calciomercato Napoli, l'offerta del Real Madrid per Oseman.Ecco perché il Real potrebbe inserirsi nella corsa a Victor Oseman, già finito nel mirino del Manchester United. I Blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta da 80 milioni di euro, più il cartellino di Nacho Fernandes, difensore classe 90, in scadenza e nel mirino dell'Inter, per un totale di 85 milioni di euro. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video.